Collezione Supercooks di Yamamai. Selvaggia Lucarelli, finalmente! Milano, primo dicembre 2017 è la rivincita delle maggiorate, di quelle donne di tutte le età che avendo seni grandi non hanno quasi mai trovato la biancheria intima giusta, seducente e femminile, soprattutto coordinata, bella da vedere e da indossare. Ora il mare di indifferenza sembra piano piano colmarsi col colpaccio sferzato a suon di pizzi e brassiere da Yamamai che ha concepito una linea ad hoc con l'aiuto della giornalista spesso anche polemista Selvaggia Lucarelli, presentata oggi a Milano dall'amministratore delegato Gianluigi Cimmino. Ed ecco gli reggiseni dell'orgoglio taglia grandi coppe, fino alla E, che Selvaggia ammira e reclamizza forte dell'esperienza di cacciatrice spesso insoddisfatta di intimo prezioso e alla moda. A 14 anni ero già così come oggi ed è stato sempre difficile trovare il reggiseno giusto, nei negozi mi dicevano che arrivavano al massimo alla terza misura, due sotto alla mia quinta, e allora è stato difficile trovare qualcosa di bello e di comodo. All'estero sì, in America e in Francia sono un po' più specializzati. Ora con Super Caps la differenza è annullata. Ora la collezione, in vendita in tutti i negozi Yamamai, alla prova delle donne, finalmente salvate e protette come dice scherzando Selvaggia.